Eccoci. Buonasera Patrizia Rinaldi. La ringrazio di aver accettato il nostro invito a partecipare a questi incontri di storie e libri per la biblioteca di Tregnago. Il libro di cui parliamo stasera è Guaio di notte, un nuovo romanzo pubblicato nella collana Nero Rizzoli. Patrizia Rinaldi lo abbiamo conosciuta leggendo i suoi romanzi su Blanca. Qualcuno ha già visto anche la serie tv su Rai Uno, è un personaggio che è stato amato dal pubblico e seguito. Ma in questo romanzo troviamo in realtà due nuove protagoniste, sono ancora due donne, molto diverse tra loro, che si incontrano in modo fortuito possiamo dire così, di notte. E allora inizierei proprio dal titolo, questo Guaio di notte, che anche si capisce leggendo che è un modo di dire, quasi una frase, quelle che mi chiamo le frasi fatte in qualche maniera. E allora ecco, come prima domanda io ti chiederei questo, che cos'è che vuol dire questo titolo e che cos'è questo Guaio di notte che fa incontrare le nostre due protagoniste? Grazie innanzitutto per l'ospitalità. Dunque, Guaio di notte. Guaio di notte, io sono di Napoli. Guaio di notte è un modo di dire. Mi ci chiamava mio padre per esempio, se è un Guaio di notte perché è un Guaio che non solo è un Guaio, ma capita anche quando è difficile risolverlo perché di notte tutto diventa più difficile. Però ha anche un'accezione noir, cioè il Guaio notturno richiama le tenebre, richiama il nero. Ed è stato scelto il titolo, la prima curiosità, è stato scelto non da me, è una frase del romanzo, però è stato scelto dalla casa editrice. Quindi mi è piaciuto molto questo. Per me è una scelta molto indovinata perché sintetizza due elementi che io spero di essere riuscita a mettere nel romanzo. Cioè il noir, e anche un po' di risata. Il romanzo, ecco ti chiedevo, così lo racconti tu, perché io con i gialli faccio fatica, rischio sempre di dire troppo. Il primo, diciamo così, Guaio di notte, se possiamo chiamarlo Guaio, è l'incontro delle due protagoniste. Quella che è la signora e Andrea. Ecco, se vuoi raccontarci tu com'è che loro si incontrano, poi magari sulla trama lasciamo correre che uno se la gode leggendo e magari parliamo insomma un po' anche dei temi di questo libro. Allora, la signora va via dalla sua città, da Napoli, appartiene alla società Bene, lascia attico e superattico a Fosilipo. Dopo degli eventi, dopo che insomma le sono capitate sulla testa cose imprevedibili. C'è il suo marito, un primario molto benestante che finisce in carcere per un crimine particolarmente malevolo. Lei, agorafobica, scombinata, asservita a questo amore coniugale, molla tutto, si muove in una zona grigia tra la malavita e la bellavita perché conosce un personaggio losco, ma molto simpatico, naso dei cane. Si fa vendere dei documenti falsi e una pistola con i gioielli che ha venduto, compra un SUV e va. Siccome questa signora tra tutti i suoi altri scombini ha un senso dell'orientamento pari allo zero, in questo sono autobiografica per esempio, si perde in una periferia romana, si perde al serpentone, dove assiste a un pestaggio. Un giovane bellissimo che la incanta da subito dai tratti asiatici, dai lineamenti asiatici e quasi in fin di vita e degli uomini continuano a cadersi sul suo corpo. Lei, dimenticando uno dei suoi principi, che è quello di perdere un po' della sua esagerata generosità, la generosità come l'egoismo, quando sono esagerati, sono patologici, tira fuori dal finestrino la pistola e con una voce rocca dice caricatelo su. E lo la salva, la salva perché poi subito capisce quando la porta all'ospedale che non è un uomo ma è una donna travestita da uomo. È lì il primo guaio di notte perché si imbatte già nella prima contraddizione rispetto a quello che si era proposta. Si era proposta di non fermarsi, di lasciarsi tutto alle spalle, di non avere impicci diciamo in qualche maniera e invece se lo raccoglie ancora fuori dalla città. Porta questa ragazza in ospedale e in qualche modo quando la salva, diventano come dire no, si uniscono in qualche modo queste due donne. Lei le fa fare l'autista, la veste da ragazzo e gli dice tu sarai l'autista e le dà un nome, glielo dà lei il nome e la chiama Andrea. Ecco su questa cosa del nome volevo chiederti perché hai fatto questa scelta. Intanto è un nome che può essere usato sia per gli uomini che per le donne, è un nome diciamo così ambivalente in qualche maniera ma anche lei non si dà un nome, lei vuole essere chiamata la signora. C'è per tutto il romanzo una attenzione mi viene da dire no, sull'uso delle parole ma anche nella descrizione dei personaggi. Quasi nessuno è davvero chi sembra. Anche dai nomi stessi c'è anche un certo punto un animale che non si capisce che animale è, che si chiama Donna Achille anche lì è buffissima questa scelta secondo me di questo animale strano che prende il nome del suo padrone però lui si chiamava Achille, ha chiamato Donna Achille questo animale ma per tutto il tempo questo animale noi ce lo ritroviamo, non sappiamo in realtà bene che animale sia, assomiglia a questo, assomiglia a quello e anche lui un nome che lo identifica in modo strano. Ecco c'è sempre questa ambiguità che attraversa il libro e volevo chiederti perché hai fatto questa scelta? Non solo nei nomi dei personaggi ma anche proprio nel mostrare che tutti quanti hanno qualcosa da nascondere dietro, nessuno dei personaggi che noi incontriamo nella storia, non solo i due protagoniste, sono limpidi in qualche modo, hanno qualcosa sempre, tutti hanno un passato complicato. non solo in un passato complicato ma non hanno nessuna voglia di comunicarlo, quasi nessuno ha voglia di mostrarsi. Il discorso sulle maschere non è un discorso pirandelliano, è proprio una condizione sine qua non dell'esistere. Cioè noi ceriamo misteri, io sono convinta di questo, scegliamo misteri, ci conosciamo l'un l'altro anche dopo lunghe convivenze, dopo lunghe amicizie fino a un certo punto. Infatti la signora dirà Andrea siamo belle perché ci mentiamo ma con parsimonia, cioè con un certo garbo. Quindi nessuno è ciò che sembra e queste maschere diventano funzionali per Andrea e la signora, poi dirò perché si chiama così solo la signora, per questioni di sopravvivenza, quindi si mascherano per continuare, si mascherano per avviare un cambiamento. Gli altri sono così perché sono così, perché nella vita cioè ci sono per esempio il rapporto coniugale dei proprietari della spa dove vanno a finire il rapporto anche lì di non detti. Cioè tutti sanno ma nessuno dice, tutti tutti sanno in parte, non la totalità delle cose, però nessuno dice. La signora si vuole far chiamare la signora e basta con la S maiuscola, cioè bisogna pensarla con la S maiuscola perché si è talmente sentita tradita dal suo nome, soprattutto dal suo nome acquisito che l'ha voluto dimenticare, sono una signora e basta, cioè io sono una donna in fieri in divenire. Certo, prima accennavi al fatto che lei aveva questa, una forma di agorafobia, la paura di uscire per un lungo periodo è rimasta quasi chiusa in casa e nel percorso della storia in tanti momenti la vediamo in difficoltà e quando lei supera quel momento che lei non chiama per nome la malattia, la chiama l'accidenti, anche questo è bellissimo, non dare il nome anche lì davvero alla cosa, lo chiama l'accidenti perché dice che lei non ha responsabilità in quello che le accade, è bellissimo questo suo modo di parlare della propria malattia, però è come se lei ne avesse anche però in questo modo a contezza della malattia che ha, cioè è cosciente di quello che lei ha, però quando parla del marito a un certo punto dice che lei l'ha messo sul podio della Guzzino e si sente responsabile un po' per essere stata trattata in quel modo e ha una voglia di rivalsa, vuole cambiare e per quello dice infieri perché lei vuole cambiare, non vuole più essere quella che è partita e si dà come un progetto di essere diversa, mi ero appuntata qui, è bellissimo, dice il senso di rivincita della signora era giovane, camminava male, sbandava tra cervello e cuore, io l'ho trovato bellissimo questo, perché lei ci prova però non sempre ci riesce, quindi ha dei momenti in cui è da animato, nel senso che non segue la volontà, poi il corpo non la segue perché si impaurisce, perché si chiude, è un personaggio bellissimo sta donna e dall'altra parte però Andrea ha invece, secondo me la differenza più grande, per questo ti chiedo se ci ho visto giusto su questo, non riesce a dirsi davvero com'è stata la sua storia, come la signora capisce e cerca di cambiare ma ha coscienza del suo passato, Andrea deve fare un lungo percorso che dura tutto il libro per arrivare a capire perché sta così male e ha anche lei, adesso non so chiamarla patologia, si ferisce, si taglia, anche lei hanno tutte e due una malattia se vogliamo chiamarla così che le accomuna in modo molto diverso. Andrea è più giovane, Andrea non ha fatto ancora tutta l'altra, la signora ha 68 anni, Andrea ne ha 31, insomma ha meno della metà degli anni della signora, quindi è giovane, la sua consapevolezza è acervissima, quasi assente, mentre la signora tra tutti i difetti che ha, perché è anche insopportabile, però fra tutti i difetti che ha perlomeno si dice come sono andate le cose, prende le sue responsabilità anche, non fa la vittima, non è una vittima sacrificale all'amore, questi luoghi comuni non le appartengono, lei sa che è stata complice dei suoi ferimenti, invece Andrea al contrario si ferisce perché il suo dolore è talmente esteso, è talmente sparpagliato nell'anima e nel corpo che vuole identificarlo in un punto della sua carne, perché proprio non lo sa fare invece da un punto di vista analitico, non lo sa fare, la signora capisce, perché la signora è gerirossissima anche se è brusca, dice un sacco di male parole, spesso è antipatica, mente, è sfudoratamente, è politicamente scorretta, lei ama il lusso e lo dice, dice ma tutte queste storie, ha una grossa personalità e capisce che Andrea per salvarsi deve fare una strada che le ha già intrapreso, poi sbaglia, sbaglia spesso, però lei l'ha intrapresa e le sale questo istinto materno di cura che da un lato condanna, perché si dice ecco qua, ci sono di nuovo questo guai di notte, sono di nuovo qui, però da un altro lato non può che accogliere e Andrea che come donna Achille è un animale selvatico, ha un istinto selvatico, afferra questa possibilità, afferra questa fune che la signora le lancia. Don Achille è questo animale che abbiamo detto prima, praticamente viene lasciato quando il suo proprietario muore e torniamo un po' un attimino un po' alla storia, loro proseguono la loro strada da Roma verso nord e si fermano in questa spa in Toscana, fingono di essere quelli che non sono, la signora abbiamo detto che ha dei documenti falsi, fa passare questo Andrea per il suo autista, quindi si fanno alloggiare lì, la signora pensa di avere dei denari sufficienti per potersi permettere questa spa, poi insomma la cosa prosegue in modo diverso, però insomma diciamo, e succedono degli omicidi e loro si, e lì inizia diciamo così la crime story, che loro si improvvisano in qualche modo detective, vogliono scoprire diciamo così chi è l'assassino di questo uomo Achille, ma poi ci saranno altri omicidi tutti della stessa famiglia e in qualche modo vengono ingaggiate, una che è lì nella spa, le ingaggia per essere scagionato, perché lui presumo di essere il primo indiziato e quindi le promette a loro dei soldi, insomma per questo e queste hanno bisogno, accettano per questo motivo, quindi sono proprio rocambolascamente infilate dentro una vicenda politica che non le interessa, non l'hanno cercata, le capiranno per caso. Sì, l'accettano semplicemente per soldi, perché la signora soprattutto nella sua vita i soldi li ha sempre visti solo passare, tanti, ma li ha visti andare via, cioè il suo destino, e allora Andrea che invece è una donna, la provenienza sociale è dissimile, la signora appunto della Napoli bene, invece Andrea è un'italo-asiatica che proviene da una famiglia disastrata, con dei crimini alle spalle, quindi sono due solitudini che essi incontrano ed è Andrea che spinge la signora affinché finga di essere una grossissima detective, investigatrice internazionale, l'incognito dell'incognito 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 e suggerisce al figlio della vittima, dice guarda peccato perché lei è bravissima, allude anche a servizi segreti, a partecipazioni, a collaborazioni con altri stati, quindi lei è una geniaccia, però purtroppo è qui, si sta riposando, sai com'è, insomma è stacco in età. La signora dice ma insomma mi stai ficcando in un altro guai di notte perché io non sono riuscita a decodificare nemmeno i fatti miei, ora com'è che mi metti in questa situazione? In realtà sia Andrea che la signora proprio per la storia dei loro vissuti sono capaci come di riconoscere sia gli indizi che il rapporto causa-effetto delle circostanze. La loro empatia le aiuta? La loro empatia le aiuta, la necessità augusta l'ingegno e le catastrofi che hanno attraversato le hanno allenate parecchio, quindi a essere guardinghe, a decodificare il reale, ad avere un certo intuito, soprattutto per i fatti che non sono precisamente loro, quindi sono più lontane, hanno uno sguardo più distaccato ma migliore. E allora si dimostrano anche bravi, tant'è che poi il caso lo risolvono, cioè lo risolvono e anche in maniera molto brillante quando tutto il commissariato, in provincia di Grosseto questo posto, quindi tutto il commissariato di questo piccolo comune, insomma, nonostante si sia trasferito, eccetera, ha avuto delle defaianze notevoli e quindi invece loro brillano, su questo brillano. Prima hai accennato al tema della maternità, da una parte la signora, dicevi, non aveva voglia di prendersi cura di qualcuno, avrebbe voluto forse, è partito con un'altra idea, diciamo così, scappato con un'altra idea, poi si fa carico invece di questa ragazza. Lei invece ha un problema irrisolto con la maternità, lei, come figlia intendo, nel senso che la madre, accennavi adesso, una famiglia disastrata e lei ha dovuto lasciare la famiglia di origine ed essere accolta in una casa di accoglienza, quella che lei individua come la madre matrigna in qualche maniera, no? La madre maestra, scusa, la madre maestra, che è questa donna che l'accoglie nella casa insieme ad altri ragazzi. Lei ha un modo, come dico, un flittuale di guardare alla figura materna e si accorge a un certo punto che il legame che ha con la signora si sta facendo sempre più forte dal punto di vista emotivo, no? E ha quasi timore perché già è stata più volte delusa dalla figura della madre. Il rapporto così tra madre e figlia è molto presente nella storia che tu racconti in questo romanzo. Sì, è una mia ossessione. Io credo che, vabbè, a un certo punto della storia femminile e femminista c'è stato un rifiuto della retorica della maternità, c'è stato un rifiuto ed è stato un rifiuto anche consapevole, no? Perché si voleva anche altro, come giusto che sia. Cioè non si voleva essere identificati soltanto in quel ruolo. Per semplificare tantissimo, mi scuso, per questa semplificazione. Poi che cosa è successo? È successo che questa maternità, anche quella cercata, quella voluta, è diventata altro da sé. Io invece ritengo che la libertà più forte sia quella di dare un ruolo principale alla maternità materna, quando è desiderata, ma anche quando non c'è stata una maternità reale, le donne hanno comunque spesso un'esigenza sostitutiva, che può essere anche un'esigenza sostitutiva di cura. Quindi si incontra una donna che avrebbe voluto essere madre, ma che per vicissitudini varie non ha potuto esserlo, quindi per volontà altrui non ha potuto esserlo, e una figlia che per volontà altrui non ha potuto essere figlia. Questi due ruoli sono a tutti e due fatali, perché insomma l'esigenza primaria, le pulsioni proprio primordiali, il corpo che diventa richiesta, si incarnano in questo rapporto, che è una mia solenne fissazione, come direbbe la signora modestamente, c'è una mia fissazione, è proprio una fissazione, e quindi io cerco di analizzare che cosa può succedere, quindi è una possibilità, è un libro insomma anche molto duro, però c'è una possibilità, c'è di rimettersi in gioco, come donne, anche in orario di chiusura. Un altro tema che io ho rilevato così è un po' quello che potremmo dire il genere fluido, non so come così, in modo semplice dirlo. Andrea in diverse parti del romanzo si veste ora da ragazzo, ora da ragazza, e diciamo così si presenta in modi diversi agli altri protagonisti della storia. Mette in difficoltà questi uomini che lei incontra, perché sì, ci sono delle parti divertentissime, c'è uno che a un certo punto pensa, Maria cosa mi succede che ho davanti questo uomo e non mi succede niente, perché evidentemente lui è omosessuale e non capisce. Il commissario gay vede quest'uomo meraviglioso e dice ecco qua, la vecchiaia è come un omicidio, è arrivata all'improvviso, ma coltellato, perché a me è un uomo così, giovane, bellissimo. Allora Andrea soprattutto rappresenta quelle bellezze asiatiche, io sono razzista alla rovescia, cioè per me le bellezze asiatiche androgini sono, sarà perché mi piace molto il cinema, comunque sono, incarnano archetipi anche contraddittori ed esaltano la seduzione dell'ambiguità. Andrea è eterosessuale, però proprio incarna, cioè lei quando veste panni maschili, lei si veste, si traveste anche per mascherarsi a se stessa, ora non posso dire troppo, però anche per essere un altro, ma non da un punto di vista erotico, da un punto di vista della possibilità nel mondo. Quindi lui e lei di una bellezza talmente alta da diventare includente, inclusiva, partecipa a tutti e due, a tutti e due sessi. Quello che la signora con uno scherzo dice, per me non me ne frega proprio niente che tu sia un uomo o donna, mi interessa soltanto che sei guidata, e sei guidata, e questa riduzione anche un po' ironica della montatura che spesso si fa, no? Ci viene in mente penna, beate chi è diverso, essendo lui diverso, eccetera, eccetera. Altrimenti se sei uguale fai l'uguale, insomma non c'è bisogno di una montatura. Quindi c'è una fortissima ironia, per cui gli uomini etero che incontrano Andrea vengono affascinati dal suo lato femminile e dicono com'è che mi piace un uomo? Quindi si interrogano su questo. Gli uomini gay che incontrano Andrea e che insomma non vengono colpiti dici com'è che non mi piace un uomo? Quindi diventa una, insomma, una commedia, un gioco, uno scherzo. Sì, sì, certo. Ma è molto divertente perché sul sottile filo dell'ironia in realtà passa anche tutto il modo che ha Andrea, no? Di dover fare i conti con sé e nascondere una parte di sé che lei non vuole guardare e riuscirà in qualche maniera, perché il romanzo è come un romanzo quasi di formazione per quanto riguarda Andrea. Cambia moltissimo questa ragazza nel tempo e forse è proprio la vicinanza della signora l'aiuta in questo. E ho trovato nel suo percorso la possibilità di aspettare i tempi di Andrea. La signora a un certo punto gli dice, aspettavo che tu me lo dicessi, però non te l'ho chiesto, perché aspettava che lei trovasse le sue parole, il suo momento per capire, per guardarsi, per arrivare dove doveva arrivare. È molto rispettoso il rapporto che la signora ha nei confronti di questa ragazza, ecco, perché capisce che il suo dramma è profondissimo e la lascia in attesa, attende che lei ci arrivi da sola in qualche modo, alla soluzione. È anche bello questo modo di essere vicini agli altri senza prevaricare, non aspettare. Io l'ho trovato molto delicato, ecco. Un'altra cosa che volevo chiederti riguarda questo miraggio quasi della casa al mare, il luogo del cuore dove lei vuole tornare. Quanto è importante questo luogo per lei, ma in generale? Allora, la signora, la cabina a mare, che è un luogo segreto, è un luogo segreto. Noi abbiamo la costa di Tufo, è un luogo che non resiste. È fondamentalmente un micro abuso edilizio sulla costa più bella di Napoli. Figuriamoci, insomma, non esiste, però è molto simbolico, cioè un luogo segreto non riportato né al Catasto né alle mappe. È una prodo pirata da cui la signora è scappata perché durante il periodo, appartiene a lei, e lei dice c'è sempre bisogno di un luogo per le donne segreto dove andarsi a riposare o a nascondere, dirà la signora, no? Allora, a un certo punto che cosa succede? Succede che, ho combinato qua, vabbè, succede che questa signora dirà è come se la gioia si fosse andata a menare, lo dico in dialetto, si fosse andata a menare e amare lei sola. Quindi io ho rinnegato quel luogo, perché ho rinnegato la gioia. Perché la signora, a differenza di Andrea, ha avuto un'infanzia bellissima, ha avuto un'infanzia di amore, di amore e anche di divertimento, di aria aperta, di libertà. E si era autonica. Che rinnega nel momento in cui si è soggetta al coniuge. Quindi quando invece... incontra Andrea, è come se la volesse portare in quella parte di anni teneri, che sono stati belli. E infatti gliene parla sempre, gliene parla come un sogno a cui tornare. Tant'è che Andrea dirà, ma l'amore può essere retroattivo? Può avere un valore retroattivo? insomma, ovviamente non si risponde, perché è come se la signora, che è generosa, si è scocciante, intipata, però ha anche questa generosità, sia della discrezione che del coinvolgimento nella bellezza. Cioè, ce ne andremo lì, anche nei momenti più brutti, no? Che lo posso raccontare? Ce ne andremo lì, ti porterò con me vicino al mare. Io volevo ringraziarti ancora di questa... Grazie a te. ...chierata. Io consiglio ancora questo libro molto bello e divertente da una parte e anche molto intenso in altri tratti, che è Guaio di notte, Nero Rizzoli, dove impariamo a conoscere due nuove protagoniste. Io ti auguro che la storia di queste due scritte, di questa copia così assortita in maniera particolare, di rincontrarla in un altro libro, in un libro futuro. Ti ringrazio per questa presentazione e saluto tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie. Grazie a te e a tutte.